Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo e miglioramento per la giornata di giovedì in Liguria. Non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati, clima piacevole con temperature che localmente raggiungeranno i 14-15 gradi, ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi sulla Liguria centro-occidentale. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese. Ci attene una giornata di giovedì caratterizzata da ampie schiarite, specie nelle ore pomeridiane in un contesto di stabilità atmosferica. In dettaglio anche sul Savonese la situazione sarà nel complesso tranquilla, eccetto nelle prime ore della giornata nelle zone interne, quando avremo qualche debole precipitazione. In dettaglio su Genova e dintorni, tempo stabile, appunto contesto di assoluta stabilità atmosferica, con solo qualche nube innocua di passaggio, altrove spazi soleggiati. Infine sul Tigulio e sullo Spezzino non mancheranno ampi spazi assolati per gran parte della giornata, cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime che raggiungeranno anche qui i 14 gradi. La giornata di venerdì sarà caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione, il sole infatti protagonista, non mancheranno ampie schiarite, le temperature massime saranno stazionarie con clima piacevole. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.